Quinta lezione, tanto volevo ringraziarvi per l'affetto, mi scrivete in tanti e devo dire che questo corso mi sembra molto fruttifero, state iniziando a raccogliere i primi frutti dall'albero della mia conoscenza e ho notato dei notevoli miglioramenti. Quindi se a maggio molti padri mi scrivevano ho problemi quotidiani, e sottolineo quotidiani nel rapporto con mio figlio, tant'è che questa cosa sta rovinando il mio matrimonio, rischio il divorzio, oggi gli stessi padri mi scrivono ho problemi, perché non posso essere un mago, mi scrivono ho problemi. Ma un sabato sì e un sabato no, e nelle domeniche dispari. Direi che stiamo lavorando nella giusta direzione, ma come diceva il mio maestro Jérôme Lacun, non esistono giuste direzioni. E la finiva lì, puntini di sospensione, quasi a indicare un sentiero ghiaioso da percorrere. Se posso aggiungere una chiosa al mio maestro, vorrei dire che non esistono giuste direzioni, ma evitiamo i tunnel incontromano. Ecco, ma come fa un padre oggi a evitare il tunnel incontromano? Grazie per la domanda. Il padre, la figura del padre, fondamentalmente deve appoggiarsi su due pilastri, l'abbiamo già visto, legge e desiderio. Padre deve essere sia legge che trasmissione del desiderio. Amo immaginarmi, infatti, queste due funzioni del padre come due parti della bicicletta. Abbiamo il desiderio, che sono le ruote, velocità, direzione, futuro. E la legge è rappresentata dalla catena. Non va vista semplicemente come un impedimento, qualcosa che frena. No, tutt'altro. La legge, vista come catena, è qualcosa che struttura il desiderio. Anzi, a volte gli dà proprio lo slancio giusto. Lo lubrifica. Ricordiamoci che il desiderio non è nulla, senza la lubrificazione. E cosa resta al figlio di questa bicicletta? Sicuramente il manubrio. Il figlio deve poter scegliere il suo percorso ideale. Non dobbiamo preoccuparci sul percorso del figlio. Il figlio deve essere libero di fare le sue scelte. C'è un burrone. Non impedire il suo percorso. Magari svolta l'ultimo. Sono convinto che è svolta l'ultimo. Quindi il figlio rappresenta il manubrio. La madre ci può mettere i freni, i specchietti, la luce, la borraccia, se ha sete. Tutti quegli strumenti utili a proteggerlo. Dari gli strumenti giusti per sentirsi comunque a casa. E infine abbiamo il campanello di bacio. Brioso. Dura un attimo. Quello sono i nonni. Briosi. Ma durano un attimo. Ecco che abbiamo quindi un'immagine ben delineata del padre. Il padre che deve mostrare al figlio il desiderio, ma gli deve anche mostrare che per raggiungere il desiderio bisogna pedalare. Bisogna sudare. Ok? Bisogna agire secondo certe regole. Perché se vai veloce e non pedali, non hai il desiderio. Hai solo il godimento illimitato, senza limiti. È meglio specificare illimitato, senza limiti. E che succede? Ovviamente il godimento, non essendo il desiderio, provoca una stortura nel figlio. Se non altro il godimento è una stortura in fase posturale dell'adolescente. Non è un caso. Questa metafora, tra l'altro bellissima, della bicicletta, l'ho presa dal mio maestro. Jerome Lacoon, non lo nego. Che in una lettera indirizzata al figlio, pensate, tra l'altro mai è arrivata al figlio. Non perché l'avesse scritto in tempo di guerra, più che altro perché lui non metteva mai l'indirizzo. Sono le missive lacuniane queste. In questa lettera Jerome Lacoon ci mostra appunto il padre come una bicicletta. Ma immagina il figlio protagonista di questa bicicletta, quindi con il suo desiderio. Quindi il desiderio e la bicicletta per poi avere un ripensamento alla fine. Infatti Jerome scrive Figlio mio, cavalca il tuo destino e pedala. Ben conscio che solo la fatica muove il desiderio. E nel tuo percorso dovrai mettere in conto le cadute, gli urti, gli automobilisti che aprono improvvisamente lo sportello della macchina, i binari scivolosi, gli autobus implacabili, le moto che tagliano la strada, gli incroci mortali. Mortali, senti, figlio mio, prendi il tram che è meglio, ok? Questo è Jerome Lacoon. Prendi il tram che è meglio, da cui appunto il film Un tram chiamato desiderio. Ecco, Jerome Lacoon ha dato questa immagine del desiderio, ha dato al figlio il desiderio, ha dato le regole della vita, forse ha messo l'accento un po' troppo sui rischi. E il figlio ha collegato passione, rischi, legge e è diventato un assicuratore. Ma questa è storia. Ma abbiamo visto appunto il desiderio dallo slancio, ma cosa succede in una famiglia se manca il desiderio? Perché può esserci anche solo un elemento. Non c'è corretto, almeno c'è un elemento. Anche questa è una stortura. Una stortura molto più tipica del secolo scorso, oserei dire. Ma potrebbe tornare attuale. E c'è un film che parla appunto di questa stortura, un film del 1981. Un padre sarto della Santa Chiesa. Immaginatevi già l'ambiente abbastanza austero. Ecco, questo padre sarto della Santa Chiesa applica la stessa austerità nella vita domestica. Alla casa, all'educazione del figlio. Quindi una casa severa, fredda. Ha una moglie ma non fa mai sesso con questa moglie. Anzi, la moglie è molto chiusa nella preghiera, pure lei. Pensa di risolvere i problemi del figlio con i fioretti. Quindi ancora una mentalità in cui pensa che il sacrificio sia qualcosa di salvifico. E questo figlio cresce insicuro. Pieno di difetti, diciamo caratteriali, ma dovuti appunto all'educazione. È vittima di bullismo, pluribocciato, obeso. Perché obeso? Perché, come dicevamo, non avendo il desiderio il figlio si lancia sui dolci. L'unico slancio vitale del figlio sono i dolci. Quindi non ha desiderio, solo godimento che provoca questa stortura. Da cui la metafora del film è il titolo del film. Cornetti alla crema. Ecco, la frase di Lino Banfi che può riassumere questo rapporto col figlio è... Scusate, me la sono segnata, ma... Perché nessuno me la ricorda... Ecco, il bimbo sembra scemo, in realtà quello lo è. Ecco. Allora possiamo dire, dovremmo dire, che per mettere in moto la bicicletta della vita, il padre deve trasmettere il desiderio. Un padre spinto da desiderio trasmetterà desiderio al figlio. Ma senza la ruota del desiderio dice solo la legge del padre. Non c'è movimento. Non ci sono ruote. Ci sarà solo una catena.